eccoci qui ragazzi allora ci troviamo ad amsterdam la capitale dei paesi passi però questa è la mia quarantesima nazione a questo momento che vi sto registrando il video su amsterdam adesso niente vi porto subito a guardare il video va bene quanto pare molto carino ordinata vedrete un po dai un po di cose ciao il casino è un hotel adesso stiamo andando a un museo vicino eccolo qua il riesx museo davanti siamo entrati all'inizio del museo bisogna scendere giù ma non ve lo faccio vedere la città abbastanza estesa e bisogna vedere tante cose non 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Qui siamo usciti Adesso Stiamo andando dove c'è la famosa scritta I'm after Amsterdam Questa è la scritta I'm after Amsterdam Ma c'è un casino E qui poi c'è Un parco Annesso Dopo un museo Veramente carino Sta praticamente alla fine del parco C'è questo, molto bello Concertgebouf La famosa fabbrica della Heineken La birra Se andiamo avanti Questa invece è la banca centrale dell'Olanda Questa è il parco Adiacente alla banca centrale Ora la stiamo andando verso l'Hermitage Famoso teatro Carre Carre Meglio come lo vogliono chiamare loro Dopo il visuale prendo da qui Perché dopo ci si attende Il fiume Sempre andando verso l'Hermitage Qui abbiamo il Maggiere Brook Il ponte Maggiere Bello Qui siamo giunti all'Hermitage Questo è l'angolo Adesso andiamo a vederlo al centro E questa è la parte davanti Della L'Hermitage Lost Opera Così si chiama Andiamo avanti E poi abbiamo la chiesa qui Cristiana Newmark Newmark Un tempio buddista D'Amsterdam Qui siamo praticamente vicini al famoso quartiere a luci rosse Spinosa 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 Inizia tutto se faccio il mio video Questa è la via Luce rossa insomma Lì però a 30 minuti di sera Questa è la chiesa di San Nicolòs Gita a cavallo Questa è la stazione centrale invece di Amsterdam Qui è dentro la stazione Qui siamo alla biglietteria della stazione dei treni C'è la stampante e tutto Adesso vieni ti siedi che sei comodo seduto E ti fai il biglietto da solo Metti da dove puoi andare Adesso da Amsterdam A Bruxelles Questa è Questa è Bells Van Berlansch Andiamo a vedere lì dove c'è la pandemina Qui è nel Tellica Questa è un piccolo Questa è un piccolo Questa è un piccolo Mr. Winkie, are you ready? He wants a kiss for good luck. Now run! Energy! Why are you clapping? He's clapping with one hand in his pocket. He's entertaining himself. I can't hear you! I can't hear you! Make! Some! Noise! How are you filming, are you? No respect, but he still wants to put it on YouTube. Everybody! Back the other way. Next roll, last sequence. It's OK. Sometimes happens. Going down the trousers! Jesus! Five seconds! Five! Four! Three! Two! One! 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 This is Piazza Dam, the super principale piazza di Amsterdam. One! One! This is a national monument. It's a long monument, that you can see. A national monument, near the vicino. dove c'è il monte plein 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 la Vigiene del Fogo questa è la Wester Kirk Fogarina e poi vicino c'è la famosa casa di Anna Frank questa è la casa di Anna Frank 12-14 la piccola stato Anna Frank questa invece è la Northern Church questa è la montagna così via Qua c'è sempre già una quartiera a luci rosse, vicino a Dam, questa è Piazza Dam, la sera, la più famosa di Amsterdam e questo è il monumento nazionale a Dam. Grazie a tutti.